Questo video riguarda i migliori tre biotrituratore elettrica. Il vincitore della qualità nel nostro biotrituratore elettrica va all'ICRA ILH3000. Grazie al riduttore planetario patentato a tre livelli, l'attrezzo assicura una prestazione di trinciatura particolarmente alta e affidabile e una lunga durata di vita. La trinciatrice è silenziosa, robusta e richiede poca manutenzione. I rami vengono pressati attraverso il sistema affidabile di cilindri e finemente triturati senza contraccolpi e in modo silenzioso. Inserite i rami semplicemente nell'apposito dispositivo di trascinamento. Il materiale da trinciare viene trascinato automaticamente all'interno dal cilindro. Si prega di prestare attenzione che la trinciatrice da giardino può sminuzzare soltanto rami fino ad un diametro di K. 4,4 cm. Se si dovessero impigliare dei rami nel cilindro, si attiva la retromarcia automatica. Lo stabile piede di appoggio assicura una salda sede al suolo. Sul lato si trova un utile vano di deposito per utensili e piccoli oggetti, come ad esempio guanti o simili. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Super Andy Biotrituratore. Questo All Electric Filo Cipatrice Schroeder & Mulcher è progettato W, un corpo in polipropilene resistente e tutti i potenti motori Driven 2400 W 230 V 50 Hz cintura elettrico, in grado di 1,57, 39 mm, max limb keeping capacità di 17.1 riduzione. L'alloggiamento resistente polipropilene non arrugginisce né ammaccature e protegge il gruppo rotore che consiste di, 2, lame per la massima capacità scheggiature. Il nostro cipatrice è attrezzata W, un facile interruttore di avviamento immediato e un interruttore di protezione di sovraccarico. La nostra elettrici cipatrici sono OSHA, ROS, ISO, 9001, 14001, CNAS, SQC, IAF, CSA, L, CETLUS, Intertech GS elencati gli standard e certificati approvati, tra cui la qualità abbattimento testato. Partner con noi e unirsi a milioni in tutto il mondo, che autorizzano la loro vita quotidiana, utilizzando le nostre attrezzature all'avanguardia e tecnologia avanzata suprema, per conquistare qualsiasi compito o ostacolo. Alzati e ottenere il dominio sul tuo sfera di influenza, avviando qui. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della Performance Premium nel biotrituratore elettrica è il AINEL GCKS 2540. I due robusti e resistenti coltelli reversibili, in acciaio speciale, azionati dal potente motore da 2500 W, rendono la lavorazione con il biotrituratore elettrico all'AME GCKS 2540 di AINEL particolarmente efficace, la tramoggia con apertura di grandi dimensioni rende la lavorazione maneggevole e ottimizza l'alimentazione di rami da tritare con diametro fino a 40.mm. La tramoggia è provvista di chiusura di sicurezza ed è ribaltabile per agevolare pulizia e manutenzione. Provvisto di interruttore di protezione del motore per la prevenzione del sovraccarico. Lo spostamento del biotrituratore elettrico a lame all'interno del giardino e presso rami e siepi domestici è facile e veloce grazie alle ruote e al robusto telaio, pratica impugnatura per il trasporto incorporata, il biotrituratore è provvisto di sacco di raccolta facile e veloce da collocare grazie agli appositi ganci. Il pestello incluso permette di alimentare velocemente e in sicurezza le ramaglie rimaste nella tramoggia. Nel telaio è integrato un pratico supporto per il pestello. Il sovraccarico dei rami nello scivolo interromperà il funzionamento della macchina, in questo caso il trituratore deve essere riavviato. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.